Musica Signore buonasera, sono Salvo Vicinario allo Chef del Vecchio Molino Oggi vi presento una nuova ricetta Non la solita bistecca Andiamo a valorizzare un pochettino oggi le carni bianche Un rollé di pollo fatto di nostra produzione Aromatizzato con buccia d'arancia, buccia di limone e pepe rosa Questa ricetta di oggi la andiamo a servire con un minestrone di pomodoro Offerto dall'azienda Mongata Abbiamo un minestrone fatto a base di pomodoro con datterino giallo No, Salvo, no Ciliegino giallo, datterino arancione e pomodoro rosso E sedano Ti lascio Meno male che c'è lui che ogni tanto mi riprende Ok, perfetto Ritorniamo a noi Abbiamo aggiunto anche del sedano Il tutto lo abbiamo condito con del sale Un pizzico di pepe nero E un filo d'oliva Per ultimo andiamo a dare la nuova freschezza con foglioline di menta Foglioline di basilico E una croccantezza la andiamo a dare con questa gipsi Che non è altro che sono delle lasagnette di pasta fresca Leggermente ritagliate e fritte Le andiamo a mettere in una padella il fondo di cottura del pollo E le andiamo ad aggiungere il nostro pollo Lo lasciamo qualche minutino insaporire e nello stesso tempo lo andiamo un pochettino a rigenerare In modo che si va di nuovo a riprendere i suoi succhi che magari ha perso durante la cottura Partiamo dall'assemblaggio del piatto Andiamo a disporre la nostra girella di pollo al centro Andiamo a mettere la sua salsina Così la mantiene morbida e succosa Andiamo ad abbinare la nostra minestrone di pomodorini Messo acuto esalta di più il sapore Qualche fogliolina di menta Le nostre gips Ovviamente senza andare a esagerare Ne mettiamo una di qua E una da questa parte Semplice filino d'olio Un rametto di finocchietto selvatico E il piatto è pronto Signori, io me lo sono cucinato Io me lo sono fatto E adesso me lo mangio Vado a prendere il vino Ci vediamo dopo Ma non è finito il piatto? Ma anche questo è un bel piatto Ma che sta facendo? Ma levati le mani tu, questo è mio Ma non l'hai preparato per me? Ma proprio Ma quando io l'ho fatto tu, ne chiedo Scusa Che fai? Ah, ma aspetta? No, aspetta il mani Ah, vada, dai, forza Cosa non si fa per un amico? Si mangia A che c'è? A che c'è? A che c'è? A che c'è? Grazie a tutti